Buongiorno, buongiorno e grazie. Allora, visto che, come dire, parliamo, volevo fare intanto un primo giro, proprio partendo dal tema dei vaccini, no? Un tema che ha visto diversi attori in campo, diversi attori protagonisti, tra cui anche voi. Lei si ritiene soddisfatto? Ma io credo di sì, dobbiamo essere tutti soddisfatti perché il Covid è stata una tragedia epocale, però noi dopo 12 mesi stiamo raccontando una bella storia, una bella storia che non era scontata, nessuno credo ci avrebbe scommesso un centesimo a marzo dello scorso anno sulla possibilità di aver avuto dei vaccini disponibili. Quindi io credo che sia questo che si deve raccontare, perché questo è stato possibile attraverso una partnership da parte di tutti, delle imprese, i ricercatori, le autorità, le istituzioni. Poi noi abbiamo vissuto un periodo in cui invece si sono evidenziati solo i problemi, invece che raccontare la bella storia. Io ho sentito parlare anche il Presidente Fontana quando diceva dell'accelerazione che c'è stata, dell'importanza della vaccinazione. Siamo tutti qui a dire che i vaccini sono importanti, raccontiamo la bella storia che in poco tempo sono arrivati e invece in questo periodo abbiamo solo raccontato solo problematiche, abbiamo cercato di evidenziare le problematiche. Faccio degli esempi. Prima si diceva che non c'erano i vaccini, poi i vaccini sono arrivati, si diceva che non erano sicuri perché sviluppati troppo in fretta, senza avere le competenze di capire che ormai gli studi erano in atto da dieci anni anche sulle tecnologie più nuove. Poi c'era il problema della catena del freddo e noi abbiamo rassicurato tutti dicendo sono 30 anni che distribuiamo i farmaci nella catena del freddo e poi la produzione senza capire che la produzione aveva dei problemi perché sono prodotti nuovi, non c'erano scorte, non c'era niente. Adesso poi si parla sempre solo di brevetti senza raccontare la storia che stiamo raccontando perché a vedere quel numero di vaccinazioni che ha aumentato così tanto per me è una bella storia. Vi dico anche un'altra cosa, ci sono solo 4 vaccini, su questi 4 vaccini si stanno facendo carico della produzione mondiale per tutti e vi voglio dire anche un'altra cosa, pensate che la ricerca non è mai così scontata così come la produzione di prodotti nuovi, pensate che ci sono 280 progetti di vaccini nel mondo, se andate sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità li trovate tutti, ce ne sono 111 di questi, sperimentazione clinica sull'uomo, ne sono arrivati 4, quindi vuol dire che la ricerca non è un percorso così scontato e questi 4 come dicevo prima si stanno facendo carico della produzione per tutto il mondo. Il problema qual è stato? È stato che sono arrivati presto, sono arrivati presto grazie alla proprietà intellettuale perché se non ci fosse la proprietà intellettuale non ci sarebbe stata la ricerca, oggi non saremmo qui, non saremmo qui a raccontare questa storia, magari c'è stato il problema che i vaccini non erano disponibili al giorno 1, però come pensano ormai gli esperti, perché lo abbiamo raccontato da tutte le parti, la produzione di un vaccino è un percorso complesso, richiede dei mesi e se ci sono stati vaccini, pochi magari, ma già al giorno 0 dopo l'approvazione, vuol dire che alcune aziende si erano assunte la responsabilità di produrli prima ancora di proseguire e di avere la certezza che la ricerca sarebbe andata a buon fine, prima ancora di sapere le date di registrazione, quindi io credo che oggi stiamo veramente raccontando una bella storia, il vaccino è la soluzione e lo stiamo vedendo con le aperture, lo hanno detto tutti, il vaccino è la soluzione per uscire da questa crisi.